Oggi non è andata proprio come volevamo, bisogna analizzare bene quello che abbiamo commesso oggi, però purtroppo questa Serie B non puoi mollare niente, soprattutto sotto punti di vista della mentalità, quando hai questi cali rischi sempre. Oggi non è andata bene niente, dispiace perché comunque 4-0 è un risultato pesante, anche se oggi abbiamo avuto qualche occasione per fare gol, però ripeto dai. Guardiamo il bicchiere mezzo pieno e cerchiamo di andare avanti, mercoledì abbiamo una partita per noi importantissima e bisogna continuare su questa strada. Quest'anno fortunatamente sono successe poche volte che dovevamo rincorrere una partita, però soprattutto gli ultimi, il terzo e il quarto gol sono stati errori nostri, come dicevi te, magari per troppa frenesia perché magari volevamo aguantare la partita, anche se avevamo avuto qualche occasione per fare gol, però ripeto non è successo. Bisogna guardare avanti, già da domani mattina cercheremo di capire bene quello che non è andato, in tranquillità, perché alla fine dei conti siamo ancora primi in classifica e quindi dobbiamo arrivare alla prossima partita sì con la cattiveria giusta perché i quattro gol sono pesanti, fanno male, però con la mentalità giusta. È chiaro quando non c'è l'atteggiamento giusto a fronte della partita non ho convinto e quindi non ti vengono i passaggi, non ti vengono le giocate, sta tutto lì. Bisogna entrare fin dai primi minuti con la cattiveria giusta, con la mentalità giusta, altrimenti rischi di fare brutte figure. Non dico che oggi abbiamo fatto brutte figure, però è chiaro il risultato è pesante, non dobbiamo nascondersi su questo, bisogna analizzare bene perché e come mai abbiamo preso questi gol. Però ripeto, alla fine dei conti è l'atteggiamento in cui inizia una partita e affronta la partita. Per me abbiamo la fortuna di giocare contro una grande squadra come la Cremonese e quindi dobbiamo trovare gli stimoli giusti. Sicuramente non mancheranno perché abbiamo visto oggi che comunque è stata una brutta sconfitta e bisogna ripartire con la testa giusta e soprattutto con la testa alta. Dobbiamo affrontare la Cremonese come abbiamo sempre affrontato le altre partite, con la voglia giusta, con l'atteggiamento giusto soprattutto. Poi ripeto, partite come oggi ci sta nell'arco del campionato, però io penso che mercoledì riusciremo a fare una grande partita perché affronteremo una grande squadra, però saremo pronti.